Dal 1920 l'Unione Italiana dei Cecchi e degli Povidenti di Cremona è presente per supportare tutte le persone colpite dalla cecità. Oggi dopo oltre 100 anni il Presidente Flavia Tozzi ha lanciato un appello per la ricerca di nuovi volontari. Noi adesso abbiamo un bando per reclutare giovani per il servizio civile. Chiedevamo se era possibile segnalare questa cosa ai ragazzi che potrebbero avere un'opportunità di fare esperienza a contatto con persone non vedenti e diciamo anche arricchendosi di questa esperienza perché non sembra ma tante volte anche le persone che hanno una disabilità possono insegnare e possono essere veramente uno stimolo per chi sta crescendo e vuole magari avere la possibilità di imparare e acquisire un'esperienza diversa. Nessuno qui di Cremona si vuole assumere questa responsabilità che secondo me comunque è un'esperienza veramente importante e che varrebbe la pena di essere vissuta. La mia situazione è così dalla nascita e io dico, anche se può essere paradossale, che sono fortunata perché con questa disabilità ci ho dovuto convivere da quando ero piccola. Quello che invece io vedo conoscendo persone che perdono la vista in età adulta, vedo che loro hanno molta più difficoltà di me ad adattarsi a questa situazione perché si devono reinventare praticamente la vita. Inoltre in occasione della festa di San Valentino verranno distribuiti simpatici cubi trasparenti colmi di caramelle multicolore il cui ricavato verrà destinato per finanziare le campagne di prevenzione delle malattie della vista. Questo è il simpatico dono che ci hanno voluto fare Flavia e la sua collaboratrice che fanno parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Povedenti della Onlus. Un pensiero gentile e gradito ma un pensiero soprattutto in grado di aiutare, come abbiamo potuto vedere, un'associazione che pensate l'anno scorso ha compiuto ben 100 anni e noi non possiamo che augurare che ce ne siano altri 100 in un prossimo futuro.